ahahahahah ahahahahahah ahahahahahahahah e io gli faccio un po' di assistenza, non voglio parlare di un po' perché non ci faccio ma non capisci mai niente, caro maestro c'è un carino vostro Stato ma chi è? è nata lunga te che tu c'è nulla lunga, non capisci niente, non mi conosci a te vabbè vabbè cosa da niente, guardi tu qua, guardi lo spettacolo ma se non ci... ah ma vi provi, vi provi, c'è, qua ci dobbiamo muovere, ci dobbiamo attivare io avevo fatto una pensata di chi volevo parlare? dei grandi classi ma non c'ho paura che la gente sia no ma non dà mamma ma però ho avuto un'idea sapete che possiamo fare? facciamo i grandi classi, io ho detto come sarebbero andate le vicende se si fosse la scuola a Napoli con un tocco di modernità, è un po' lo piace a vedere beh l'ha pensato a me che si può darsi che piaccia ma io ho avuto un po' l'Amin, un po' l'Amin, un po' l'Amin allora è un po' l'Amin si chi è sentito ti non ci vediamo 1 appena non ci vediamo ho avuto un po' l'Amin e un po' l'Amin e un po' l'Amin